Vi commento brevemente, è una storia molto bella siciliana, visto che il Presidente ha parlato prima della Sicilia, con questo piccolo cimitero di terracotte maiolicate, una tradizione che viene dall'Africa, costruito solo tra il 1878 e il 1880, poi subito abbandonato, che ha bisogno di restauro. Nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta anche in diretta streaming, il FAI e Intesa San Paolo hanno presentato i risultati dell'undicesima edizione del censimento nazionale dei luoghi del cuore di cui fa parte anche il cimitero vecchio di Santo Stefano di Camastra, classificandosi al quindicesimo posto nella classifica nazionale, mentre nella classifica regionale occupa la prima posizione con 13.468 voti. Un risultato straordinario frutto di un lavoro di squadra formato da un gruppo di volontarie che hanno lavorato in maniera incessante per riuscire a centrare un obiettivo ben preciso che era quello di portare alla ribalta una volta per tutte il cimitero vecchio di Santo Stefano di Camastra. E per fare ciò si è puntato sul Fondo per l'Ambiente Italiano, che si conferma la più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo, com'è nella missione del FAI. Il cimitero vecchio, collocato a un chilometro dal centro storico, rappresenta un vero e proprio museo e cielo aperto di questa produzione. La sua unicità è rappresentata sia dalla struttura architettonica delle 96 tombe presenti, denominata alla cappuccina, sia dal rivestimento delle tombe stesse, costituito da mattonelle chiamate ambrosette, decorate con un motivo ornamentale su fondo bianco. Ne sono state contate circa 75 tipologie diverse, a testimoniare l'incontro tra conoscenza tecnica, maestranza e gusto artistico di varie scuole di ceramisti operanti nel Messinese. Dopo un primo intervento a cura della soprintendenza dei beni culturali di Messina, che ha disposto il restauro di alcune tombe, si rendono ancora necessari i lavori di manutenzione e recupero delle altre presenti. Originariamente, infatti, le tombe erano completamente ricoperte di maioliche, ma negli anni alcune delle piastrelle si sono staccate e sono conservate nel Museo Cittadino a Palazzo Trabbia. Questa raccolta voti spontanea portata avanti da questo gruppo di volontari è nata proprio dal desiderio di vedere restaurate queste opere. Grazie a tutti.